Ho sentito una botta forte, mi sono messo il giubbotto e ho provato per vedere se c'era bisogno di aiuto di dare una mano, ma erano incastrati nella macchina. L'auto sbanda e finisce nel canale di Scolo a Ormelle, provincia di Treviso. Niente da fare per il guidatore, 27 anni e per uno dei passeggeri, 35. Tutti e quattro erano amici, metà lì erano già, che abitavano di qui. L'uscita del venerdì sera, senza ritorno. Altri due ragazzi hanno perso la vita in un incidente a nord di Roma. 20 e 21 anni, la macchina è finita contro un albero. Gli incidenti stradali restano alla principale causa di morte fra i 15 e i 29 anni. Proprio negli ultimi due mesi la polizia ha presidiato le strade della Movida. Il 6% degli automobilisti è risultato positivo all'alcol test. Il 14,7% aveva assunto droghe. Nei primi nove mesi dell'anno i controlli sulle strade sono aumentati. Oltre un milione, i veicoli sottoposti a verifica, dicono i dati del Ministero dei Trasporti e del Viminale. Nel complesso, gli incidenti sono diminuiti e anche le vittime, molti però, coinvolgono giovani. E fra le cause principali ci sono velocità e distrazione. Chi era alla guida dell'auto ha perso il controllo. Oggi, in provincia di Forlice-Esena, un gruppo di ciclisti è stato travolto. E uno, 57 anni, non ce l'ha fatta. È morto in ospedale.